Certo, certo, la facciamo, si farà, è una battaglia storica dell'Avvocatura ed è sul punto di realizzarsi. Il Ministro è stato di una chiarezza assolutamente ammirevole, ha assunto un impegno, peraltro fa parte di una maggioranza di governo che aveva posto questa riforma nel proprio programma elettorale, si farà. Se ne facciano una ragione i magistrati che continuano ad opporsi ad essi con argomenti progressivamente sempre più inconcludenti e sterili.